Sono sotto di 500.000 euro con il mio account Forex, ma i kudu mi tengono compagnia in questa mia nuova avventura al Malaroth Park, nella mia nona tappa del mio giro del mondo. Beh, preferisco fare altri video per dire la verità, ma quando le cose vanno male comunque non mi nascondo e quindi ecco un video ne abbiamo fatto proprio parlato l'altro giorno in diretta nelle mie posizioni c'è anche un wild beast che se la passeggia in casa nelle mie posizioni Forex durante la notizia del FOMCA sapete quando si parla dei tassi di interesse io ho mostrato i dati siccome mostro i dati quando vanno bene allora mostro i dati anche quando vanno male se non sembra che faccio il furbetto però faccio alcune precisazioni nessuno mostra i dati né quando vanno bene né quando vanno male quindi probabilmente il problema non è se io mostro i dati solo quando vanno bene o quando vanno male ma che nessuno mostra niente. La seconda precisazione è che mostro i dati sui miei conti di trading un milione e mezzo sul Forex che non è più un milione e mezzo in questo momento le cripto e le azioni ma veniamo alla situazione ti è mai successo max di andare sotto certo ovvio con un conto da un milione e mezzo se perdo il 10 per cento perdo 150 mila euro perdo poi bisogna vedere perché il saldo va sotto poi bisogna vedere se chiudo alla fine in attivo in perdita nel 2020 ho preso una stoppata superiore a 100 mila non perché ho metto gli stop loss in macchina chi mi segue lo sa ma perché ho stoppato le posizioni a mano e ho deciso di chiudere sempre in un momento di inversione allora era un momento di inversione che io pensavo in un trend rialzista che sarebbe girato a ribasso questa volta sono sempre in difficoltà per una possibile inversione questa volta il mercato che è a ribasso io sto tentando di capire se è finita la discesa. Un'altra situazione paragonabile a questa in termini di dimensione dell'osso è stata nella fase covid nella fase covid ho fatto dei grossi profitti ma in uno dei momenti in cui il mercato si muoveva con una volatilità eccezionale superiore per dire il vero a questa sono andato sotto di una cifra ragguardevole simile a questa c'è tutto fra l'altro documentato perché stavo registrando il mio corso codice max per fare trading sul forex e quindi siccome avevo appena finito di registrare la parte teorica ho iniziato a registrare una serie di video sull'operatività e ho documentato tutto infatti i codiciani che fanno intraday quindi sono nella mia rubrica club elite lo sanno perché io ho registrato tutto come si è chiusa quella posizione beh grazie alla grande volatilità e al rischio che però corso con 260 280 mila euro di profitti questa volta a rendere le cose difficili c'è questo primo sono contro trend d'altro canti trend sul mercato valutario durano un anno due anni difficilmente tre anni e poi cambiano perché le politiche monetarie l'economia la macroeconomia i governi hanno bisogno di fare delle mosse tassi di interesse occupazione eccetera e quindi di solito questi trend cambiano non è che ti compri il dollaro te lo tieni in tasca tutta la vita come se ti compri il bitcoin o come se ti compri apple è una roba che comunque non te la puoi tenere in tasca per sempre perché non è un asset class è una roba su cui speculare infatti è difficile ora in questo momento specifico che cosa è successo io per capire se il momento è buono per comprare o vendere l'euro dollaro prima di tutto non faccio delle analisi di macroeconomia non faccio delle valutazioni sui tassi di interesse si le guardo le cose le capisco anch'io ma faccio fare tutto a quelli che sono più bravi di me quindi ai famosi istituzionali quelli che hanno tanti soldi quelli che hanno gli studi di analisi quelli che lavorano per le banche di investimento sono le banche di investimento rappresentano le banche di investimento quindi lascio fare a loro i conti non ci credi la giraffa la vedete non è che sia facile da beccare qui siamo al mall road park dall'altra parte i 500 metri in linea d'aria c'è la vedete vero la giraffa adesso andiamo nella giraffa c'è il kruger ed è difficile beccare una giraffa venendo qua ma signori miei per questo video abbiamo il giraffozzo è entrata dentro nel bosco la vedete e quindi adesso corre via e quindi come vi dicevo adesso ho perso il filo ma questa parte del video molto bella perché quando ti capita di beccare una giraffa dentro un video quindi dicevo stati un po di bordelli allora sì gli istituzionali fanno i conti tassi di interesse previsioni cose e a quel punto decidono di comprare l'euro di comprare il dollaro parliamo di euro dollaro che è il tasso di cambio più rilevante se loro decidono di comprare l'euro di comprare il dollaro nella quantità intendo dire aspetta che ci avviciniamo sono due c'è anche la compagna o il compagno grazie per il video adesso andiamo a finire grazie per la comparsa giraffa andiamo a finire il video quindi se loro decidono di comprare l'euro io leggo le loro posizioni e so che la somma degli istituzionali chiaramente non era solo la jp morgan o chi lo sa la somma degli istituzionali la giraffa fa la pipì non gli piace il mio video la somma degli istituzionali è long o short se è long sull'euro presumibilmente l'euro salirà quindi questa è una delle basi che utilizzo per capire il trend quindi il trend se lo leggi che va su è chiaro che tutti lo vediamo che va sul problema è quando che finisce quando di base smettono di comprare l'euro e iniziano a vendere l'euro a comprare il dollaro così è successo ad esempio intorno al periodo di maggio 2021 eravamo a 1,22 rotti di euro dollaro tutti volevano comprarlo qualcuno diceva va 1,50 uscì la notizia su milano finanza non me ne abbiano però è uscito l'articolo posso citarlo va a 1,50 l'euro dollaro noi l'avevamo shortato e l'abbiamo preso sul muso per un mese cioè io shortavano da su chiaramente con un rischio una leva che mi permetteva di prendere sul muso un mese l'euro dollaro perché se tu esageri con la leva abrasi l'accante cosa è successo che è cominciata a girare e noi abbiamo letto i flussi di questi istituzionali abbiamo interpretato e via questa volta è successa una cosa simile l'euro dollaro è sceso sceso non l'abbiamo shortato da maggio del 2021 fino a tutto il 2022 poi è scoppiato il conflitto russia ucraina e noi eravamo short cosa è successo che durante il conflitto russia ucraina gli istituzionali cominciano a comprare l'euro e io facendo un ragionamento tra me e me dico ma come conflitto russia ucraina compri l'euro inflazione che sale dollaro che incrementerà i tassi compri l'euro sei pazzo però non è che compri l'euro c'è arriva uno compra tot lotti e dici vabbè è una cosa è un errore che ha fatto qualcuno no è che la somma degli istituzionali compra l'euro ma mani basse e non è che lo fa prima del conflitto che dici vabbè non lo sapevano hanno sbagliato lo fa proprio durante il conflitto e allora una settimana due settimane tre settimane le posizioni incrementano fino a che sono importanti e fra l'altro nella lettura che io faccio di queste informazioni abbiamo creato anche un indicatore nostro che lo in modo matematico proprio per aiutarci a non prendere diciamo così un rospo e anche quello si accende di verde dice guarda che stanno comprando l'euro in realtà il problema serio è che compravano l'euro ma compravano anche il dollaro e quindi c'era già un po di incongruenza però fatto sta che questo incremento dell'euro unito ad alcune posizioni in opzioni che facevano da supporto sui minimi e cavoli due indizi fanno una prova sono tre indizi perché sono pieni di dollari cominciano a comprare gli euro e ci sono le scommesse degli istituzionali questa volta in opzioni che fanno da supporto come dire probabilmente sotto lì non va scadenza lungo periodo e allora io dico boh cominciamo a comprare l'euro e comincio perché non è che faccio un'operazione sola e metto lo stop sotto il minimo comincio a comprare l'euro te la faccio breve sbraga il mercato saltano i supporti delle opzioni brum via tutto le posizioni in euro che avevano comprato gli istituzionali e le chiudono scoppia la volatilità cioè se prima l'euro dollaro andava a 100 pipa al giorno va a 200 per fare un esempio quindi era doppia e io mi trovo long sull'euro dollaro e non solo sulla sterlina e compagnia cantante con la volatilità che aumenta con un'esposizione superiore a quella che avrei voluto perché chiaramente ho fatto i conti con la volatilità che c'era che era già superiore alla media quindi un occhio ce l'ho dato problema è la storia non è finita te la sto raccontando mentre si svolge quindi adesso qual è la mia intenzione beh intanto visto che gli istituzionali sono scappati dalle opzioni e poi sono scappati dalle loro posizioni però nel fattempo il mercato è sceso parecchio le notizie sono negativissime america che incrementa i tassi mentre europa che non lo vuole fare per via del conflitto inflazione che sale in inghilterra il 10 per cento però l'inghilterra ha aumentato i tassi eppure la sterlina scende in questo momento la sterlina ha i stessi tassi del dollaro però la sterlina scende e io chiaramente ho comprato anche la sterlina perché perché la mia scommessa è che il dollaro si indebolisca dopo che si è rafforzato per un anno e mezzo e seguendo gli istituzionali solo che gli istituzionali cambiano strada allora io ho due possibilità chiudere in perdita incassando la perdita visto che gli istituzionali hanno cambiato strada oppure valutare la possibilità di alleggerire le posizioni le posizioni le potrei alleggerire in perdita oppure siccome io diversi prezzi potrei valutare la possibilità di un rimbalzo per alleggerirle in attivo rimanendo mercato con un rischio più basso e osservando se gli istituzionali si riposizionano perché io cosa ho notato che gli istituzionali si sono già riposizionati con le opzioni sugli attuali minimi come a dire vabbè siamo scappati da quelli precedenti perché il mercato li ha distrutti ci siamo riposizionati sotto quelli attuali o poi può andar male ancora però non è che sono proprio una manica di stupidotti quelli là quindi ho pensato beh se ti levi da là mercato fa un bel volo e ti riposizioni di sotto boh magari stavolta il rimbalzo c'è quindi preferisco alleggerire le posizioni anziché in perdita in leggero attivo e rimanere a mercato ciondoloni in attesa di vedere se il peggio è passato e allora il riposizionamento sull'euro torna perché stiamo parlando di un euro dollaro a 1.05 in questo momento è 1.05 i minimi storici dal 2014 raggiunti in varie occasioni non più superati violati al ribasso da quando l'euro dollaro è passato sopra quell'area quando hanno fatto l'euro dollaro quindi anche volendola guardare è una situazione molto particolare peraltro il dollaro così forte non fa bene all'economia americana non fa bene ai presidenti americani che chiaramente sono lì anche per le aziende americane non fa bene alla ripresa di un'economia che rischia di andare in crisi seria perché alzando l'inflazione alzando i tassi il dollaro è forte il rischio è che si vada in recessione o peggio però chiaramente in un momento in cui le cose sono andate un po' a rotoli si cerca di lavorare sulla parte più rischiosa quindi gli americani accettano il dollaro forte perché hanno altri problemi più importanti a cui pensare ma questo dollaro forte così chiaramente non piace sicuramente alle aziende americane perché le aziende americane ovviamente hanno rapporti internazionali e il dollaro forte rende i prezzi più alti per esportare più alti per vendere i servizi all'estero e quindi crea problemi alle grandi compagnie multinazionali americane che hanno rapporti con tutto il mondo quindi se una roba costa 10 dollari il dollaro sale 20 per cento è come se ne costa 12 no nella valuta di chi compra perché il dollaro è più forte tutto questo quindi in una fase di criticità importante e la perdita non è poca e chiaramente ci vuole pancia per gestire una roba del genere però è ovvio che se cresce l'account con cui lavori psicologicamente sei costretto a crescere anche tu altrimenti devi tenere l'account più piccolo quindi dal punto di vista psicologico una volta che sai fare trading online se aumentano le cifre devi anche aumentare la tua parte mentale e psicologica perché ti devi abituare a fare la stessa cosa con più soldi altrimenti devi prelevare mano a mano e non far crescere l'account che sembra una banalità ma quando sei bravo a far trading e finalmente ottieni risultati costanti se la cifra che tradi è più alta di quello che sei in grado di gestire emotivamente e potresti iniziare a perdere anche per quello perché non hai lo stomaco e la preparazione per gestire una cifra del genere e ahimè è un grande guaio lo puoi rischiare di scoprire a spese tue perché vedi che quando vai sotto di certe cifre prima le accettavi in percentuale adesso non le accetti più perché in denaro rappresentano una cifra per te troppo grande bisogna fare conti anche con questa cosa non è la prima cosa con cui fare conti ma è una delle cose con cui fare sicuramente i conti in questo caso specifico io è un po di tempo che trado con questo account sono diversi anni per cui diciamo che la prova psicologica l'ho già superata guardate che fortuna che avete questo non so se l'ha ripreso è un kudu maschio con le corna lunghe arrotolate di 80 centimetri la femmina non ha le corna e la c'è anche un babbino con un bimbo sotto appeso ed è qui è pieno di animali è malrot park consideratelo se volete venire in sudafrica attaccato al parco nazionale madonna con i nomi parco nazionale come si chiama o mio dio dove tutti vanno a fare i safari però potete venire qua e potete il kruger e potete andare il kruger noi andiamo al kruger nel weekend ma viviamo qua a contatto con gli animali prima da casa quando è perdito il video avete visto c'erano tre femmine di kudu alle mie spalle a cui diamo da mangiare anche a mano banane e carote quindi la morale della favola è questa io non mi nascondo se le cose vanno male ho mostrato l'account sotto di più di 100.000 in varie occasioni faccio vedere anche questo fa parte del mestiere sicuramente nessuno di voi ha visto un account sotto di mezzo milione neanche io ho dovuto vedere il mio un giorno perché nessuno ha mai fatto vedere niente è meglio quando sta sopra però chiaramente c'è un modo con cui imparo e cresco perché chiaramente se leggi libri e ti dicono tutti di studiare ma dov'è che c'è scritto su un libro cosa fare quando sei sotto di mezzo milione con il tuo conto di trading e c'è un cazzo di libro che lo spiega no non c'è adesso mi perdo anche che a fare il video mi perdo in tutte se strade che sono uguali non c'è un libro magari c'è un libro che si prefigge di dirti come fare a diventare milionario col trading però chi l'ha scritto sicuramente non ti ha mai fatto vedere una cippa ma non c'è un libro che ti dice cosa fare quando sei sotto perché potrebbe essere che perdi di più e allora iniziano tutta una serie di possibili svalvolamenti perché al di là della situazione che si può gestire perché le fasi di crisi ci sono e i mercati quando impazziscono perché questa è una fase di crisi perché i mercati sono impazziti fanno cose che normalmente non fanno quindi avere la pellaccia perché la prima volta che ti capitano nel mio caso no perché faccio trading dal 97 professionale oramai da 16 anni e qui la prima volta che mi capitano però ti possono capitare in modi diversi momenti diverse con cifre diverse e quindi devi essere pronto e preparato e una parte di te non sarà mai sempre pronta fino fino in fondo per cui c'è sempre una parte di te che sarà messa alla prova più duramente di quello che tu ti aspettavi ti immaginavi ti auguravi e avevi accettato quando hai messo la prima posizione a mercato e questo fa di un uomo di un imprenditore di un trader di un investitore un uomo di successo oppure no capace di mettersi in mezzo a una nuova crisi e di venirne fuori magari anche con le pive nel sacco è però chi non ha mai fatto o non ha mai avuto una loss o un grande loss o una fase di drawdown importante più di quella che si immaginava i grandi investitori sanno comunque che quando arrivano certe crisi non sempre bussano alla porta e passano attraverso le crisi perdendo anche il 50 per cento dei loro portafogli rai dalio ora in baffi ci sono sempre sempre questi due perché li conoscono tutti e i loro dati sono pubblici del loro fondo di investimento della società quotata che acquista partecipazioni in aziende quindi quando i mercati fanno sti toffi magari loro hanno altra liquidità in obbligazioni o cash con cui comprare di sicuro non magari ma il resto del portafoglio passa attraverso il crash quindi depaupera il valore delle posizioni e poi come ogni volta accade questi fanta miliardari diventano più miliardari ancora quindi vuol dire che la pancia comunque ce l'hanno come quella dell'elefante che mangia anche non solamente le foglie o il gras che l'erba ma anche cortecce e le usa per digerire le cortecce i sassi ma qualunque mestiere voi vogliate fare per guadagnare più quattrini di quelli che sono uno stipendio medio comunque vi porterà a che fare con la gestione emotiva di questa roba qua chiaramente l'emotività genera stress è come i muscoli che generano acido lattico quando si allenano e tu devi essere in grado di scaricare così come chi si allena l'acido lattico con il riposo col defaticamento con altre cose lo stress che genera l'attività di avere a che fare coi soldi a questo punto chiudo il video se mi segui in diretta nel canale quel che vedrai come andrà a finire questa situazione spero bene chiaramente però in ogni caso se vuoi sapere come va a finire rimani sintonizzato sul canale puoi mettere un like un'iscrizione al canale ma poi anche non farlo ciao carissimo e al prossimo video